Oggi l'approvazione del bilancio è una data importante per la città metropolitana. Importantissima, tante opere finanziate, tanti impegni per tutti i comuni della città metropolitana, in un clima davvero costruttivo, ho ascoltato parole che mi hanno davvero colpito da parte di consiglieri metropolitani che tra l'altro non appartengono al mio schieramento politico, hanno parlato di pagina storica per la città metropolitana, di democrazia assoluta, di spirito collaborativo eccezionale, di grande valorizzazione di tutti i sindaci, tutti i territori, è proprio lo spirito che sempre ha auspicato, la cooperazione istituzionale nell'interesse dei comuni, delle città, dei nostri abitanti, la città metropolitana di Napoli è forte, vive di un grande spirito istituzionale, grande trasparenza, correttezza e efficacia, mai si sono visti tanti investimenti in settori strategici come quello delle scuole, delle strade, dell'ambiente, dei servizi e della qualità della vita, davvero una pagina bella per l'area metropolitana più forte del Mediterraneo, grazie a tutti, credo che sia una giornata davvero importante. Grazie a tutti.